Se il web lento vi fa impazzire, ma avete bisogno di restare sempre connessi, Starlink è la risposta. Starlink, la tecnologia di SpaceX, offre internet satellitare veloce, affidabile e disponibile praticamente ovunque in Italia. Immaginate di poter fare streaming, giocare e lavorare online senza interruzioni, anche nelle zone più remote. Come funziona? Starlink utilizza una rete di satelliti in orbita bassa per fornire una connessione internet potente e costante. Questi satelliti comunicano con le stazioni di terra e i terminali utente, garantendovi un accesso al web senza problemi. Quali sono i vantaggi? Velocità fulmine, bassa latenza e la possibilità di connettersi dove l'internet tradizionale non arriva. Perfetto per gli appassionati di tecnologia che desiderano velocità e affidabilità. Allora perché aspettare? Abbracciate il futuro di internet con Starlink e dite addio alle connessioni lente. Scoprite di più su starlink.com. Ciao Italia!